Alla trasmissione di oggi continuiamo il crogiolo del male. Che cos'è il crogiolo? Abbiamo già spiegato precedentemente, lo spieghiamo ogni volta, che cos'è il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone altro non è che lo stregone stesso, cioè è la capacità dell'individuo di costruire se stesso. Tutta la teoria parte dal presupposto che non c'è una coscienza universale che costruisce l'universo, cioè che determina la formazione dell'universo. Adesso una coscienza creata dice che mai esiste il mondo, esiste l'universo come noi lo conosciamo in questo momento, che alla fine delle sue trasformazioni va a costruire la coscienza universale. Cosa comporta questo? Questo comporta che la vita di ogni essere, di ogni concentrazione di energia vitale, è un'occasione per costruire la propria coscienza, la propria consapevolezza e muoverla attraverso una serie di mutamenti, fase dopo fase, cioè momento dopo momento. La vita degli esseri della natura fa parte di questo momento, cioè è un momento che noi abbiamo per riuscire a costruire noi stessi. Il crogiolo dello stregone è l'arte attraverso la quale noi costruiamo noi stessi partendo dall'oggettività del momento in cui noi nasciamo. Cioè, il crogiolo dello stregone ha un significato perché è fatto in questo momento. Se fosse stato fatto due mila anni fa avrebbe un significato diverso, fra mille anni avrà un altro significato e sarà fatto in maniera diversa. E il crogiolo dello stregone che abbiamo cominciato a leggere, che abbiamo cominciato a definire l'anno scorso, scorso anno, parte dal presupposto che gli esseri umani nascono e vengono sottomessi a una volontà creatrice da parte dei cristiani. Cioè, noi viviamo in Italia, viviamo sotto un cristianesimo, un cattolicesimo, che tende a stuprare gli esseri umani. Stuprare gli esseri umani da un punto di vista pagano non significa semplicemente un atto fisico con cui si stuprono i bambini, ma è un atto attraverso il quale si distrugge il divenire delle persone nell'eternità dei mutamenti. Cioè, la persona viene privata di quelle prerogative che servono per determinare la sua volontà e le sue determinazioni, la sua costruzione, il suo modo di essere. E questo è il significato reale di stuprare, che poi c'è un atto fisico e un atto fisico, questo è irrilevante. Per cui, cosa è che ci interessa a noi? Ci interessa la prima operazione di stregoneria, che è quella di sottrarre l'individuo dall'assoggettamento. Per sottrarre l'individuo dall'assoggettamento è necessario un atto di magia, un atto di stregoneria. Perché? Perché l'assoggettamento attraverso il condizionamento educazionale viene imposto al bambino fin da piccolissimo. E viene inserito con una violenza tale che è arte della magia nera. Per cui non è sufficiente un buon discorso, un bel ragionamento per riuscire a uscire dall'assoggettamento. Comunque e in ogni caso l'assoggettamento si rinnova. È necessario un atto di volontà, è necessario degli atti di determinazione continua per uscire dall'assoggettamento. Per questo abbiamo elaborato il corgiore dello stregone e abbiamo elaborato il corgiore dello stregone in maniera generica. Cioè prendendo gli elementi del corgiore dello stregone e definendoli in maniera generica. Questo perché? Perché ogni persona che intende percorrere quel sentiere deve prendere quegli elementi e trasferirli in se stessa. Cioè deve elaborarli, dargli lei stessa il suo significato e applicarli come lei ritiene di doverli applicare. Perché? Perché la soggettività delle nostre trasformazioni è l'elemento fondamentale. Cioè non esiste una verità a cui piegare gli esseri umani, ma esiste una libertà da percorrere. E la libertà da percorrere è quella che noi cerchiamo di diffondere. Se io vi dicessi questa è la verità da raggiungere, altro non farei che la stessa operazione del pazzo di Nazareth, il quale figlio del Dio, lui ha il sapere a cui tu ti devi adeguare. Mentre noi non possiamo fare la stessa cosa. Perché? Perché per noi la costruzione della libertà dell'individuo, del soggetto è fondamentale. E la libertà non è un oggetto da raggiungere, ma è un percorso da fare. Per cui esistono tante libertà quanti sono i singoli soggetti, e esistono tanti percorsi quanti sono i singoli soggetti. Per cui il crogiolo dello stragone, una persona deve prendere gli elementi e adattarli a se stessa, al proprio fare, al proprio vivere, al proprio modo di vedere le cose, a quella che lei è arrivata in quel momento. Fatto questo, noi abbiamo portato avanti altri due crogioli. Perché? Perché una volta che la persona si è levata fuori dall'assoggettamento, in cui le regioni monoteiste lo hanno omesso, riconosce il mondo circostante uguale a se stesso. Cioè, riconosce se stessa come un Dio che si espanda nei mutamenti, e riconosce le coscienze del Divino che ci circonda come altri tanti Dei che espandono loro stessi. Questo riconoscere se stessi come un Dio e essere circondato da Dei, comporta delle relazioni, relazioni che sono fatte fra uguali. E queste relazioni avvengono sia sul piano della ragione, cioè sul piano del pensiero, sul piano della vita di tutti i giorni, sia all'interno della percezione, sia all'interno della percezione alterata. Ebbene, queste due modalità di relazione, essendo due modalità e due oggetti che arrivano a relazionarsi, cioè io e l'albero, io e il sole, io e qualcos'altro, oppure qualcos'altro con me, bene, formiamo i quattro canti del mondo, formiamo due tipi di relazioni fatti da due soggetti, perché vengono fuori i quattro canti del mondo. E stiamo elaborando il corgiore dello stregone nei quattro canti del mondo. Dopodiché abbiamo detto, però, noi dobbiamo anche chiarire quali sono gli elementi attraverso i quali le persone vengono sottomesse, gli viene distrutto la possibilità di costruire se stesse nei mutamenti e dobbiamo capire come gli elementi del corgiore dello stregone vengono annientati dalla magia nera. Nel far questo abbiamo elaborato il corgiore del male. Praticamente il corgiore del male non è altro che la definizione dei meccanismi, cioè cercare di capire il meccanismo attraverso i quali le religioni monoteiste tentano di distruggere il divenire delle persone. E siccome per distruggere il divenire delle persone è necessario che la persona sia impotente, sia incapace di difendersi, sia non abbia conoscenza, non abbia consapevolezza, la maggior parte delle azioni che fanno i monoteisti le fanno nei confronti dei bambini. Cioè l'azione nei confronti del bambino serve per distruggere la capacità del bambino di espandersi nei mutamenti. Ebbene, proprio nel corgiore del male, questa è la diciottesima trasmissione del corgiore del male, parliamo l'intento nel corgiore del male, cioè come l'intento viene distrutto dal cattolicesimo. Il respiro e la forza, attraverso la quale si esprime l'intento, attraversano e costruiscono l'individuo. Lo spingono a trasformarsi, modificandosi attraverso la soluzione delle contraddizioni nell'esistenza. Il corgiore del male deve impedire all'individuo di agire obbedendo alla forza di intento. Deve impedire all'essere umano di farsi intento. Intento si esprime attraverso volontà. Quando la ragione media la spinta di intento sull'individuo attraverso l'adattamento alla sua descrizione, si chiama intenzione. Lo scontro per bloccare intento non è lo scontro fra intento e intenzione, ma fra volontà e ragione. Il noccio del contendere è l'essere umano, che deve trovare un equilibrio per usare la ragione nel quotidiano e la volontà nell'azione per costruire la sua esistenza, dove la dilatazione della ragione permette di avvicinare l'intenzione descritta all'intento percepito. L'azione del corgiore del male è quella di imporre la ragione, ma non una ragione vasta, cosciente e consapevole del proprio ruolo, all'interno del divenire dell'essere umano, ma una ragione monica, menomata, ristretta, con fantasmi terribili, a guardia dei suoi confini. Confini che volontà non può avvalicare e attraverso i quali intento non può farsi percepire. L'intento del corgiore del male è quello di bloccare lo sviluppo dell'essere umano, piegarlo a condizioni e volontà esterne, impedire di prendere nella propria maniera il proprio divenire, piegare il pensato della ragione a dei fantasmi imposti a prioristicamente, bloccarne i flussi dell'energia vitale per nutrire volontà ed intenzioni estranei. In definitiva il corgiore del male deve bloccare l'espansione dell'individuo in tutti i campi in cui questa espansione possa avvenire, sia nella descrizione che nella percezione. L'intento del corgiore del male si riversa sull'individuo come atto impositivo di fattori a lui estranei, incontrollabili, inverificabili. L'individuo subisce tutto questo come atto di fiducia passiva, perché non ha termini di confronto per stabilire cosa produrrà quanto sta subendo. Non avendo termini di paragone, egli parte dal presupposto che quanto sta subendo non è cosa estranea al suo sviluppo, ma parte integrante e naturale del suo crescere. Il corgiore del male tende un agguato all'essere umano quando questi non è in grado di difendersi. L'agguato è teso da coloro dai quali l'essere umano dipende per la soddisfazione dei propri bisogni. Dal momento che costoro soddisfono i suoi bisogni primari e necessari, l'essere umano non ha motivo di presupporre che salvo quei bisogni tutto il resto è organizzato al fine di distruggere il suo divenire e renderlo dipendente da fattori che bloccheranno la sua crescita. Quando ha volontà esterne, la sua crescita rispetto a volontà esterne e a lui è strana. Qui c'è un cambiamento di parole. Leggiamo da Storia delle donne, l'Ottocento, di Dubbi e Perrault. I doveri ottocenteschi di una madre cattolica, quelli della devozione, del sacrificio e dell'educazione religiosa, si esplicavano nella consapevolezza che la relazione materna e filiale era legata al fragile filo dell'esistenza. Io ho conosciuto intimamente una madre di famiglia, che non era appunto superstiziosa, ma saldissima e esattissima nella credenza cristiana e negli esercizi della religione. Questa non solamente non compiangeva quei genitori che perdevano i loro figli e i bambini, ma li invidiava intimamente e sinceramente, perché questi erano volati in paradiso senza pericoli e avevano liberato i genitori dall'incomodo di mantenerli. Trovandosi più volte in pericolo di perdere i suoi figli nella stessa età, non pregava a Dio che li facesse morire perché la religione non lo permette, ma gioiva cordialmente e vedendo piangersi o affliggersi il marito, si rannichiava in se stessa e provava un vero e sensibile dispetto. Come dare torto a questa donna? L'intento di vivere era stato ridotto alla costrizione di riprodurre bestiame al quale togliere l'intento. Non partoriva figli per obbedire al proprio intento, ma partoriva figli per intenzioni non sue. Ogni parto era uno stupro, uno stupro di cui la religione cattolica era la mandante e l'esecutrice. Mandante ed esecutrice come possiamo rilevare da altra pagina dello stesso libro, sempre la storia delle donne, l'ottocento di dubbi e perrore? Un rapporto precoce con la preghiera, felice risultato dell'iniziazione materna. È presente in molta ageografia ottocentesca, non sfiorata dal sospetto di naturali disposizioni infantili alla ripetitività ludica. A sei mesi Jean-Baptiste Marie Vianney, il futuro curato santo di Ars, è la coscienza vigile della madre che lo ha educato al segno della croce prima dei pasti, la sollecita in caso di dimenticanza. I consigli spirituali verso i piccoli credenti esaltano la misura. Monsignor Duffetre ribadisce che il rapporto fra devozione e pratiche esteriori non è quantitativo e consiglia di non eccedere nella preghiera e negli esercizi di pietà. Dalla seconda metà dell'ottocento la devozione delle bambine diventa più fattiva e laboriosa. Si ispira al decorativismo della fede adulta, incrementato dal culto mariano. L'età dell'autoconsumo religioso si abbassa. Nel mese di maggio anche le bambine e le ragazze erigono altarini nelle loro stanze. Molte, come Caroline Bram, hanno un petit oratoire, un piccolo oratorio personale. Le immagini sacre si femminilizzano. L'appassionata ossessione del corredo di lago su Canivezze, merletti finissimi di carta che circondano la figura del bambin Gesù e della Madonna. Inspessiscono le pagine dei messali, duplici oggetti di desiderio per le devote collezioniste, prove di fede e pegni di amicizia. Il decreto pontificio, quam singularis, che nel 1910 autorizza la comunione privata, ne amplifica la diffusione. Un'immagine sacra, con il nome e un passo del Vangelo scelto a misura della giovanità della comunicanda, partecipa all'evento. Prima tappa consapevole non solo della biografia spirituale, ma di un'intera esistenza socio-sentimentale. La vita femminile nel suo primo periodo si svolge fra due veli candidi, il velo della prima comunione ed il velo nuziale. Questo è un esempio di come si agisce sui bambini per strappare loro l'intento. L'intento viene distrutto per sottometterli a volontà esterne, a volontà che non sono il prodotto del loro esistere, né la forza della loro germinazione, ma sono volontà il cui intento è distruggere la loro determinazione attraverso la quale affrontare l'esistenza. L'intento della vita viene annientato e sostituito con l'intenzione della devozione ad una volontà esterna. L'azione dell'adulto è feroce e consapevole. La consapevolezza dell'adulto è nella netta percezione della propria sconfitta davanti alla vita, una sconfitta che deve necessariamente riprodurre nell'individuo che gli sta di fronte. Egli non può specchiarsi in chi dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, in chi dilata se stesso. Il bambino gli sta davanti come uno specchio. In quel specchio egli non può vedere il suo fallimento nella sottomissione e per non vederlo deve riprodurlo nel bambino. Così può continuare ad ingannarsi. Ecco il bambino è uguale a me, non ha mangiato il frutto della vita eterna per vivere in eterno. Anche egli metterà fine alla sua sequenza dei mutamenti come a me. L'intento della vita è stato distrutto. Affinché l'intento non si possa presentare all'adulto ha agito cristianamente. Ha fatto in modo che la ragione del bambino sia rattrappita la più piccola possibile. L'ha circondata di tutti i fantasmi di cui ha paura. Ha imposto la costrizione sessuale. Ha imposto la fatica del lavoro. Ha imposto l'obbedienza più totale. L'intento è stato sostituito da intenzione. Ma non l'intenzione della ragione che chiede di svilupparsi e che comunque si pone un obiettivo da raggiungere. Ma l'intenzione è pronta ad uccidere ogni intento affinché questo non si affaccia alla ragione e non cerchi di costringere l'individuo a costruire dei cammini che comunque lo possono portare a cogliere dall'albero della vita eterna. Si è già detto come intento sia la forza che spinge volontà e come volontà sia la forza di crescita del singolo individuo. L'individuo quando nasce non ha nulla della ragione. Non descrive il mondo ma è spinto da una forza incessante che lo impone di crescere come primo bisogno della sua esistenza. La volontà abbiamo visto come viene strappata e distrutta sostituendola con volere che diventa volere di appropriazione funzionale al crogiore del male. Così intento viene sostituito con intenzione come frutto della descrizione. Perché fai questo? Quali sono le tue intenzioni? Le tue intenzioni sono certamente quello che io penso siano le tue intenzioni. Tu non ti puoi permettere di esprimere intenzioni diverse da quanto l'esercizio del mio controllo su di te è in grado di definire. Perché non ammetti che il tuo intendimento è quello che dico io? Perché continui ad affermare cose diverse, cose folli che io non capisco, su via, i ferri roventi, alla trottura, finché non ammetterai di agire con l'intendimento che io affermo che tu agisci. Eppure si ostina il pazzo ad affermare cose diverse dalle mie. Come può essere che egli sia spinto da quanto afferma o da qualcosa di simile di quanto gli afferma? Io sono creato di maglia e somiglianza al Dio Cratore. Io posso sapere ogni cosa perché sono uguale a Dio. E qualunque cosa tu affermi ti spinga ad agire certamente il demonio che si serve del tuo pazzo cervello. Alla tortura finché non risavisca. Questo è il modo di ragionare del cristiano. Il cristiano non costruisce se stesso, non alimenta il proprio divenire e ritiene chi lo fa arrogante. Non comprende e non si sottomette alla sua ignoranza. Il cristiano è ucciso intento dentro di lui. O al peggio, ha permesso che qualcuno uccidesse intento dentro di lui. Pertanto è terrorizzato da chi non si conforma al suo agire. E chi non lo fa lo ritiene un pazzo. Un cristiano non è più in grado di riconoscere l'intento. Non è più in grado di riconoscere la forza che spinge gli esseri umani a dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Questo appartiene al potere di essere. Il potere di essere a cui il cristiano ha rinunciato per appartenere ad un Dio padrone. E per questo vivendo non solo attraverso il potere di avere come espressione della propria azione, ma peggio ancora, attraverso la pulsione di morte come arte di distruzione del presente e in particolar modo dell'intento degli individui, della propria specie. E la distruzione dell'intento nei bambini, affinché crescano vuoti e desiderosi di essere posseduti da un Dio padrone e di possedere stuprando altri esseri umani. Il mettere in ginocchio, la tortura, l'infiburazione, la circoncisione, sono tutti i sistemi attraverso i quali manifestare la proprietà sull'individuo in ginocchio, infiburato, circonciso o marchiato. E la distruzione dell'intento nelle culture diverse, attraverso la distruzione del loro divenire culturale, operata dai missionari cristiani. E la distruzione dell'intento, operata dal comando sociale, nei confronti di ogni essere umano che rivendicava il proprio potere di essere, reclamando giustizia, attraverso galera. Torture e manicomi. Due grandi criminali cristiani, anche se forse qualcuno non rivendica l'appartenenza, si sono presentati in questo secolo, il cui scopera quello di distruggere l'intento nella costruzione del proprio divenire degli esseri umani, rendendo gli schiavi. Ce ne sono altri, ma vale questi due come esempio. Martin Luther King fece della sottomissione alla regola della sua predicazione. Chiedeva il rispetto di individui sottomessi, il rispetto della loro sottomissione in quanto sottomissione. Con questo aiutò la CIA a distribuire la ruina nei ghetti neri poveri, per sconfiggere il respiro di libertà che in quel periodo era di Malcolm X e del Black Panther Party. Il risultato del suo lavoro è che la parità i neri l'avranno quando impareranno la regola del più forte o del più furbo, che ruba al più debole e quando impareranno che il potere di avere è la regola della loro esistenza. In pratica, quando gli schiavi accetteranno di essere schiavi, al massimo sarà loro consentito di gareggiare con i padroni per schiavizzare qualcun altro a loro volta. E l'altro, il Mahatma Gandhi, insegnò il piacere della sottomissione distruggendo il divenire magico dell'India. Lo scopo di Martin Luther King e Gandhi era quello di distruggere l'intento degli esseri umani. Per i cristiani questi sono esempi da imitare, anche se i cattolici preferiscono criminali simili al calibro di quelli che loro chiamano padre Pio o madre Teresa di Calcutta, la macellaia dell'India. Ma dal punto di vista del potere di essere, della determinazione dell'individuo, dal punto di vista della vita, questi erano dei criminali che aiutavano il Dio cristiano a condurre gli esseri umani al macello, aiutando sofferenze e costrizioni a prevalere sul bisogno di determinazione e giustizia, di cui ogni essere umano è portatore. Non c'è libertà di trafficare in schiavi. La libertà si costruisce quando il traffico di schiavi non esiste più, né si toglie da un suo apparire, neppure nelle condizioni più lievi. In quelle condizioni riappare l'intento negli individui e ricomincia il cammino per costruire gli esseri umani nell'infinito dei mutamenti. Cosa può fare dunque un essere umano che si muove spinto da intenzioni non sue, ma intenzioni che appartengono all'abitudine della sottomissione? Serrare i pugni e i denti e mescolare il proprio crogiolo. L'intento è il soffio dell'infinito che ci circonda. L'intento è espresso da ogni coscienza di sé che marcia lungo il sé. Quando si saranno i pugni e si proclama la propria esistenza, il soffio di intento si è fatto sentire, nonostante il condizionamento educazionale dell'individuo. Quel soffio può essere solo un attimo. Sta all'essere umano afferrare l'attimo, incubarlo, nutrirlo, fino a farsi avvolgere. I cristiani sentono qualche volta il soffio di intento, lo scacciano, ne hanno paura. Subito si mettono a pregare affinché il loro Dio padrone allontani la tentazione di libertà. Pregando rimuove la sottomissione. Pregando dicono, intendo, vattene. Io sono bestiano del Dio padrone, non permetterò a nessuno di allontanarmi dal suo macello. Io non ti permetto di trasformarmi in un Dio per divenire nelle tali tali mutamenti. Io voglio essere sacrificato al mio Dio. A volte il desiderio di sottomissione è così forte che i cristiani chiamano costoro martiri della fede. Sono coloro che pur di distruggere l'intento negli esseri umani hanno sacrificato se stessi. I cristiani omettono di dire che costoro erano solo morti che camminavano. avevano distrutto a tal punto l'intento dentro di loro da essere assolutamente vuoti. Rimanevano nella vita fisica soltanto finché era data loro l'opportunità di distruggere l'intento in altri individui. Quando questo veniva loro impedito, facevano resistenza al punto tale da morire. La pulsione di morte alimenta il bisogno di diffondere pulsione di morte. Il crogiore del male ha come scopo la distruzione del divenire dell'essere umano. Questa distruzione è un atto quotidiano, sistematico, non lascia nulla al caso. Tutto è programmato. L'intento soffia sempre, scuotendo gli individui. Il crogiore del male non è in grado di far male a quel soffio, ma può distruggere il Dio che cresce dentro gli esseri umani affinché non percepiscono quel soffio ne diventino sufficientemente veloci per farlo proprio. Per questo è il motivo. Il pazzo di Nazareth nei quattro Vangeli ufficiali attraversa la Palestina scacciando demoni. Il suo scopo è quello di distruggere il Dio che cresce dentro ogni essere umano per poterlo mettere in ginocchio. Il suo scopo è quello di trasformare l'essere umano da un Dio che costruisce il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti in bestiame da macello al servizio del padrone che gli spaccia suo padre e di tanti padroni macellai che lo rappresentano. Ma il vento soffia ancora ed è il vento di intento. E questo è il concetto di intento nel crogiore del male come l'intento viene distrutto all'interno del crogiore del male. Ebbene, nella prossima trasmissione invece parleremo palpare il mondo nel crogiore del male e la prossima trasmissione sarà invece del crogiore dello stragrone nei quattro canti del mondo. Scusate un attimo solo. Bene, vediamo un attimo la telefonata. Vi ricordo che i numeri di telefono sono 700 700 e 708 38. E vabbè, niente. Andate giù la telefonata. Intendiamo avanti con la nostra rassegna stampa quella che facciamo sempre. Vi ricordo che agli ore 19 fra 19 e le 20 sono ancora in trasmissione e da 19 alle 20 continuiamo la lettura del sentiero d'oro. Ormai stiamo arrivando verso la fine del sentiero d'oro le immagini sono quasi tutte terminate. Arriveremo alle congregazioni sacerdotali di antica Roma da loro funzione magica naturalmente non esiste solo la funzione magica le organizzioni sacerdotali avevano anche delle altre funzioni altre funzioni che dopo sono andate a prevalere cioè sono andate a costruire a costruire quello che è stato il potere di avere che poi ha aperto le porte al cristianesimo. Per cui continueremo quello che a noi ci interessa però non è tanto la funzione sacerdotale i sacerdoti come padroni cioè i sacerdoti che diventeranno dopo non so tipo Giulio Cera, Cesaro Augusto diventano addirittura si prendono il titolo di pontefice massimo roba di questo genere cioè c'è una degenerazione di quello che è la funzione magica della percezione del mondo con la necessità del controllo del comando sociale a noi ci interessa invece soltanto la parte magica cioè ci interessa semplicemente il lato magico della questione cioè la capacità degli esseri umani di percepire il mondo circostante di essere parte del mondo circostante di alimentare la magia nella vita per cui affronteremo questo aspetto essenzialmente quando parleremo delle congregazioni sacerdotali dell'antica Roma e niente oggi continueremo questo e stiamo quasi arrivando alla fine del sentiero d'oro dopo la fine del sentiero d'oro riprenderemo invece il discorso sul Gesù di Nazareth, l'infamia umana e faremo esattamente la seconda parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana cioè quei raggruppamenti di punti comuni nei vari Vangeli e quali sono gli insegnamenti che ne vengono fuori da quei punti comuni e questo è il continueremo in questo modo dopodiché continueremo con ciò che apporta i mentalità nella religione romana e andremo avanti con i vari libri del Paganesimo e della Stragoneria allora vediamo un attimino la segna stampa di oggi io oggi non ho fatto questa settimana non ho fatto la segna stampa perché avevo parecchie cosette da fare e niente di avanti con la segna stampa che non abbiamo portato avanti nelle trasmissioni precedenti se qualcuno vuole telefonare ricordo che il numero è 700 700 oppure 700 838 la linea è libera anche per gli insulti per cui fate pure allora vediamo un attimo dal gazzettino del 21 luglio 1998 i taleban sfrattano i soccorsi e l'unione europea taglia i fondi cosa è successo? è successo praticamente che ai taleban degli aiuti della comunità europea non gliela frega niente là abbiamo una banda di monoteisti che sono appunto i taleban che sono studenti di teologia musulmana non mi frega niente dei vari tipi sciti sciti sunniti non mi frega assolutamente niente il cui scopo è distruggere gli esseri umani vediamo pronto? ciao Gia Paolo ciao Claudio come va bene? bene bene e tu? eh sono appena tornato alla montagna bene ciao pensavo il mondo è tutta una catastrofe insomma perché? è tutto uno sbaglio perché? secondo certe teorie religiose il mondo è sbagliato perché c'è tutto un pericolo tutta una catastrofe tutto un modo sbagliato di vedere la vita e quindi è tutto da rifare insomma in un certo senso cosa dici? no io non sono d'accordo c'è tanto cammino ma non che sia tutto sbagliato ah non è che sia tutto sbagliato no proprio appunto la colpa di essere nati la colpa di esistere è basato tutto sulla colpevolezza sul cioè sul fallimento il mondo è fallito secondo le religioni il mondo è fallito ah beh sì perché devono adeguarsi a Dio certo certo che è un fallimento perché se il peccato se esiste il peccato vuol dire che è fallito a un certo punto mentre visto dalla scienza il mondo è è un divenire non so un evolversi è qualcosa che va avanti è una scoperta continua diciamo è una scoperta continua certo certo con questo io ti lascio perché sto proprio pensando a queste cose anche elementari che però rifiuto che che tutto sia uno sbaglio eh per me è un evolversi è un ricercare è un andare avanti senza una meta precisa dire là voglio arrivare là perché sei tutto finito se no certo e qualcuno ti tende a tirare indietro è un respirare continuo e andare avanti ti saluto Claudio ciao Gian Paolo grazie ciao a proposito di scienza abbiamo dalla Repubblica del 21 luglio 1998 un discorso che già vi avevo fatto il neutrino spacca montagne è l'articolista in realtà cos'è sto discorso del neutrino perché è così importante il neutrino vediamo un attimo di telefonata pronto? sì? sì ciao Claudio ciao Cesarina ciao senti Claudio mi vuole anche fare questa domanda qua così dove che sei per esempio in Cameron o in che paesi che vanno tutti questi missionari e dopo questa gente magari immigra qua in Italia cattolicissimi e mi ho provato anche a me pelle queste cose insomma ti qua sembrano metti a penne i rivai sembra buoni cattolici che c'è il paroco che va ogni settimana a trovarli col minimo quando chi comincia magari che te che dà il lavoro te che dà la fiducia te che dà tutte queste cose col minimo minimo cosa che succede c'è una violenza e un odio contro altre persone che è inaudibile tu la trovi strana questa cosa la trovi strana questa cosa forse che so casca perché credevo tutto diverso insomma invece dà un odio ma un odio feroce proprio l'odio della vita e ora dico e ora dico ma se sta crescendo nella bontà cristiana che se è il paroco che se è questo che se è quello col minimo scresci che è una ferocia che si può accoltellarti alla schiena e io fa ma è logico è tutto giusto questo ti do un'esperazione voglio proprio che ti potessi spiegare questa cosa che se è questo perché noi altri che siamo sempre estati nel cattoliciasimo e che ne venimo fuori amici qua a nostra testa con il nostro pensare con il nostro che ne vedo tanti anche qua che non pensa ma questa cosa qua proprio mi mi resta dentro mi resta dentro la violenza e l'odio certo ma te lo posso spiegare tranquillamente ciao Cesare grazie ciao niente Cesare te lo posso spiegare benissimo questa cosa qua il problema è questo forma e sostanza apparenza e sostanza sta gente ha avuto distrutta completamente la propria cultura deve ricostruire completamente la propria vita ebbene uno dei modi per ricostruire la propria vita è quello di venire nei paesi occidentali i missionari hanno saccheggiato ogni loro pensiero e ogni modo il loro modo di essere ora loro devono ricostruire il futuro non hanno più niente l'unica cosa che possono fare è prendere quello che hanno dato i missionari e usarlo come forma e apparenza per cui loro possono venire qua siccome la Chiesa Cattolica usa i poveri come massa di manovra all'interno dei sistemi sociali loro si fanno se passare per cattolici fin tanto che non sono riusciti a ottenere qualcosa di diverso qualcosa di sganciato dall'organizzazione cattolica cosa vuol dire questo? vuol dire che quello che loro vogliono è costruire la vita però siccome per costruire la vita devono umiliarsi e accettare il cattolicesimo accettare la sottomissione sono pronti a farlo fin tanto che non si sganciano da questo fin tanto che non si sganciano da queste cose magari che sono sganciati da queste cose loro hanno tutta la rabbia della repressione tutta la rabbia di essere presi in giro tutta la rabbia di aver perso una cultura tutta la rabbia di dover imporre se stessi per cui noi ci troviamo davanti ad affrontare queste cose e questo è logico cioè non esiste illogicità in questo l'illogicità sta nella testa delle persone che pensa dei cattolici più che altro che pensano che le persone siano bestiame che le persone non pensino che siano oggetti da usare per i propri progetti per le proprie manovre ma le persone sono sono elementi fondamentali quando io parlo del corgiore del stregone nei quattro canti del mondo il corgiore del stregone si può fondere nei quattro canti del mondo anche con altre persone ebbene l'altra persona con cui noi costruiamo la relazione che può essere anche il nostro marito nostra moglie nostro amico eccetera se noi non sospendiamo il giudizio se noi non sospendiamo assumiamo un atteggiamento scettico non siamo in grado di percepire quella persona per ciò che è o per ciò che vuole ma non facciamo altro che proiettare noi stessi la nostra educazione le nostre aspettative i nostri desideri su quella persona e allora quella persona non la percepiamo più per quello che è ma la percepiamo per quello che noi vorremmo che lei fosse ebbene su questo percepire la persona per quello che noi vorremmo che lei fosse si costruisce l'inganno cioè l'inganno si costruisce quando noi inganniamo noi stessi se noi sospendessimo il giudizio se noi avessimo un atteggiamento scettico percepiremmo le tensioni di quella persona non per ciò che ci appaiono o per ciò che noi vorremmo che fossero ma per ciò che quelle tensioni sono in realtà bene noi ci hanno sempre educato ci siamo sempre educato a sottometterci a quello che è delle idealità che non vengono fuori da noi stessi ma che ci sono imposte stereotipate cioè sono delle verità imposte bene quando noi ci siamo sottomessi a quelle verità imposte diventiamo ciechi rispetto alla realtà che ci vede avanti cioè non abbiamo più la realtà per quello che è ma per quello che noi vorremmo fosse la realtà per cui non facciamo altro che proiettare noi stessi sulla realtà e questo è l'effetto dell'educazione cattolica cioè l'educazione cattolica ti toglie la possibilità di guardare le cose per ciò che sono e ti costringe a considerarti te al centro del mondo e proiettare sul mondo il tuo pensiero il tuo modo di essere per cui ecco che la pianta non pensa l'animale non ha sentimenti il mondo è muto perché tu sei incapace a sentire il mondo perché tu sei incapace ad avere sentimenti perché tu sei incapace a percepire la vita che ti circonda ed ecco che lo schiavo è schiavo solo perché è un idiota il nero è nero è in miseria solo perché è un idiota perché qualcuno l'ha fregato e quest'altro vive in quelle condizioni perché lui è stupido mentre tu che vivi in migliori condizioni non è che hai avuto delle condizioni favorevoli ma è perché tu sei intelligente ed ecco allora che magari l'idiota del paese si reputa più intelligente del nero dell'Africa magari ignorando che il nero dell'Africa si è fatto un mazzo tanto per attraversare delle contraddizioni che lui nemmeno avrebbe mai immaginato per cui ecco che si proietta sugli altri quello che noi vorremmo che gli altri fossero e questa è la stronzata più grossa dell'educazione cristiana perché così si uccide le persone e si uccide la capacità delle persone di produrre noi stessi cioè se il cristiano dice l'essere umano è costruito a immagine e somiglianza di Dio bene c'è un gioco d'apparenza con questo discorso al centro dell'universo il cristiano mette l'uomo cioè mette l'essere umano cazzo dici che bello che è l'uomo che è migliore di tutti gli altri però nel far questa operazione separa l'essere umano dal resto del mondo cioè l'essere umano non è parte della natura non è parte della terra non è parte per cui costruisce il suo futuro ma lo separa dal mondo in modo di impedirgli di costruire il suo futuro per cui questa operazione dove mettere l'essere umano al centro delle attenzioni del Dio in realtà è un'operazione per distruggere il divenimento dell'essere umano perché lo toglie dall'oggettività che lo ha prodotto dalla vita che lo ha prodotto cosa dicono invece i pagani l'essere umano non è altro che un virus sulla terra non è altro che un essere della natura che cerca di costruire se stesso facendo questa operazione i pagani mettono l'essere umano all'interno della vita che lo ha prodotto per cui con la possibilità di continuare a costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti allora il gioco d'apparenza che fanno i cristiani in realtà è solo per trasformare l'essere umano in bestiame di allevamento mentre invece quello che fanno i pagani dicendo che l'essere umano è parte della vita è parte della natura non c'è differenza fra un essere umano un virus e un verme quando si tratta di tensioni che costruiscono quando si tratta di costruire l'essere luminoso che c'è dentro quando si tratta di costruire se stessi nei mutamenti tutti dobbiamo affrontare le nostre contraddizioni tutti dobbiamo affrontare la vita tutti dobbiamo essere in grado di prendersi le nostre mani la responsabilità delle nostre cose bene facendo questo i pagani invece mettono al centro dei loro interessi se stessi costruiscono l'uomo l'essere umano si costruisce mentre l'operazione che fanno i cristiani è proprio quella di distruggere la capacità dell'essere umano di costruirsi e questo dobbiamo stare attenti il nero che viene dall'Africa non è un povero buono non è un idiota è un essere umano che intanto si è tolto dal villaggio ha affrontato le contraddizioni doveva conoscere il denaro doveva conoscere i soldi magari conosce almeno tre lingue è dovuto saper imbarcarsi è dovuto saper muoversi doveva avere un obiettivo e un intento cioè è una testa cioè è un genio solo per il fatto di arrivare in Italia per aver vissuto le contraddizioni del proprio paese ed essere arrivato in Italia è una testa è una testa notevole è una testa pensante notevole rispetto alla massa di idioti costruiti dal cattolicesimo qui in Italia che abbiamo una massa cioè il cattolicesimo costruisce gli idioti questi sono effettivamente dei geni cioè noi abbiamo delle persone che da qui a 15 anni avranno una posizione estremamente importante al nostro paese stiamoci attenti a sottovalutare le cose va bene detto questo andiamo un attimo andiamo avanti ancora con il discorso della scienza che avevamo interrotto e il discorso della scienza parte dal discorso sulla Repubblica del 21 luglio 1998 ed è il neutrino spacca montagne in pratica cosa è successo? è successo che alcuni ricercatori giapponesi hanno scoperto che il neutrino ha massa cosa significa che il neutrino ha massa? è una massa infinitamente piccola quasi inincalcolabile però ha massa questo significa che non esiste nell'universo energia che non sia a sua volta materia vediamo un altro telefonato pronto? buongiorno buongiorno parlo con il signor Claudio sono io ascolta carissimo Claudio io ti ascolto però posso se io ti facessi delle domande ti offendi? beh basta che siano brevi che posso rispondere senza fare tanti discorsi non sono breve ma sono brevissime va bene additivo superlativo ascolta come si spiega il fatto che il Papa è penegrino sua santità è penegrino gira il mondo per portare la pace allora io rispondo che invece sono un stupratore di bambini poi un'altra cosa cioè per stupratore cosi intendi è un stupratore di bambini cosi intendi con questa parola? cioè quando lui c'era girl che è stato trovato che faceva l'omosessual faceva stupratore di bambini anziché dirle questa non è dottrina cattolica siccome la dottrina cattolica implica lo stupro dei bambini io non ti caccio della chiesa cattolica per cui la partecipazione morale in stupro di bambini è un reato è una cosa immorale poi un'altra domanda poi un'altra domanda quando ci sono le feste grandi come San Pietro e Paolo quando ci sono insomma le grandissime feste come si spiega che la piazza San Pietro è colma di gente sono tutti ignoranti sono tutti stupidi che lo stanno ascoltando no 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 sono persone private come si spiega questo fatto ma guarda che i milioni di persone torturate bruciate nel medioevo tutte le eresie che sono state perseguitate con la morte l'orrore hanno seminato distruzione del divenire umano questo è significato cioè il cattolicesimo non ha una dottrina o un'idea da dare all'uomo deve sottomettere l'uomo al pensiero di un Dio che non esiste per sottomettere l'uomo a un Dio che non esiste ha dovuto stuprare per duemila anni ha distrutto l'umanità ha fatto roghi massacri per impedire agli esseri umani di costruire loro stessi e questo è il risultato di questo sai chi è il Papa? per me è un assassino oltretutto è anche un mafioso perché ha organizzato la mafia in Polonia contro le donne affinché non abortissero perché è un assassino dopodiché per me è un assassino anche il Dio che adora non c'è problema ma ascolta Claudio sei sicuro di quello che stai dicendo? sì 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 guarda sono sicuro dal punto di vista magico hai capito con chi parli? non ha importanza con chi parlo per me ogni persona è un valore per il momento che ha persone bravo questa è una parola esatta ciascuno di noi siamo un essere un essere che poi non rappresentiamo niente e che un giorno diventeremo niente non è vero perché? perché io mi costruisco un cristiano si mette in ginocchio e distrugge se stesso sono due cose diverse no ma arriverà il giorno arriverà il giorno non è oggi e domani se non è domani sarà dopo domani oggi ci siamo e domani non ci siamo ah beh ci spero bene sto lavorando solo che per quello ascolta Claudio sì un'altra cosa un'altra domanda adesso in questo momento mi hai fatto un po' di confusione scolta Claudio c'è una preghiera che dice padre nostro che sei in i cieli sì per me io ho già parlato che questo è orrore e morte errore? orrore e morte come mai che c'è la Pasqua e il Natale? l'avete imposti con la violenza il Natale era una festa di solo invicto con la violenza eh sì solo con la violenza e basta è stato distrutto il cattolicismo ha distrutto ogni culto ogni religione ogni sentire religioso attraverso morte tortura leggi ha devastato la storia e questo adesso vabbè dopo le rotte sociali hanno aperto un po' di liberalismo però questo è stato fatto non è che sia che sia stato un sentimento delle persone è stato imposto con le armi nient'altro un'altra cosa cercherò di essere breve come tu mi hai raccomandato di essere breve e ti ringrazio perché mi dai queste risposte perché si prega la preghiera che valore ha anche questo ne ho parlato l'altro giorno del male la preghiera forse non avrò sentito la tua trasmissione la preghiera la preghiera è l'atto di autodistruzione viene insegnato ai bambini piccolissimi ma non prega solo i bambini pregano anche i grandi ti va in chiesa ti fa la fortuna quando si costruisce la distruzione ti fa la confessione quando si costruisce la distruzione nel bambino dopo diventa molto difficile prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita affrontare il mondo dall'assalto al cielo della conoscenza si preferisce sperare l'esistenza di qualcun altro che ci aiuti a fare questo si è distrutta la propria capacità di divenire nel mondo questo è l'orrore tutte queste cose da dove le hai ricavate? da me stesso cioè? da me stesso da te stesso ma in che senso? nel senso che ho viaggiato nell'infinito dei mutamenti per quello che io sono riuscito a vederlo non ti preoccupare ho dovuto studiare per riuscire a capire cosa mi succedeva ho una certezza che nasce da dentro che mi permette di affrontare qualunque cosa magari non ho la cultura sufficiente però ho la certezza sufficiente per affrontare qualunque cosa che cosa ne pensi che cosa ci sarà nel 2000? niente quello che c'è adesso è un po' meglio un po' di diversi ma non era stato detto anzi se mi permetti ti ringrazio ti ricordi quella volta che erano arrivati i primi mille anni e i testimoni del generale dicevano io non sono il testimone di Dio ma sono sempre cristiani va bene tutti pure tu sei un cristiano tutti siamo cristiani no caro no 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 io sono un pagano mi spiace come? io sono pagano pagano o apprendista stragone se preferisci o guardiano dell'anticristo se preferisci nello spiritismo nello spiritismo ci credi? no anche se io ho fatto parecchie sedute spiritiche cioè non comunque qualunque cosa spiritistica classica che ci sia ascolta 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 perché tanta io c'è l'ingegnere c'è il dottore insomma tantissima gente di studio di culture di scienze che alla domenica va alla messa questa gente non potrebbe stare a casa come si spiega se anche loro credono e vanno in chiesa hai letto le statistiche da quando da quando l'imposizione armata dei cattolici parola di interno dello stato è diminuita sta crollando sistematicamente l'adesione alla chiesa cioè la gente che va in chiesa è sempre meno per cui volevo dire che era ottenuta mediante le armi solo che le armi hanno oggi hanno prodotto delle persone condizionate educazionalmente per andare in chiesa però molta gente si sta liberando dove le percentuali sono sempre maggiori questo è un dato di fatto almeno credo no? cioè senza l'imposizione di andare in chiesa senza il terrore del parroco che minaccia ricatta senza il prete senza il guardiano militare cioè il prete militare senza il magistrato cattolico cioè senza tutto questo tutto questo orrore la gente che va in chiesa è sempre meno cioè chiede più sempre più libertà che dopo non sape dove sbatta la testa è un altro discorso tu hai un'anime no io ho un corpo di energia che sto costruendo ho una scintilla ma è mia cioè nel senso che se mia madre abortiva andava persa e poi un'altra cosa insomma hai mai letto la Bibbia? beh mi sembra ti credi nella Bibbia? mi sembra di averne letta per i credi al Vangelo? cosa? credi alla Bibbia? credi al Vangelo? no nel senso che sono delle cose orribili cioè orribili in che senso? eh? orribili in che senso? nel senso che servono per distruggere il divenire delle persone per far diventare bestiame del Dio cioè anziché essere persone che determinano loro stesse sono persone che vengono costrette ad essere parte di un greggio che va al macello il macello chi è che produce il macello? è il Dio il macellaio il Sodoma e Gomorra è quello che dice fai quello che voglio io io ti ammazzo per cui questa è la Bibbia la Bibbia insegna come stuprare il divenire delle persone ascolta carissimo Claudio eh beh qua ho chiuso posso domandarti un favore ti ringrazio? perfetto potrei salutare delle persone? come no? grazie infinite saluto il nostro carissimo Gian Paolo saluto il nostro carissimo Franco Cararo saluto tutti i radioascoltatori da la A alla Z augurando se hanno fatto cioè se debbano ancora fare buone vacanze e se le avessero fatte buone giornate quelle giornate siano serene portatori di pazzi e di serenite arrivederci il mio nome pronto? sì il mio nome è Giovanni Coletta vabbè auguri ciao salve pace bene io invece spero che le vostre giornate siano piene di contraddizioni e che nelle contraddizioni postreate costruire la vita perché costruire la vita vuol dire affrontare la vita significa costruire se stessi va bene detto questo andiamo avanti abbiamo detto riprendiamo il discorso è ancora pronto? pronto Claudio? ciao ciao buona giornata grazie 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 a tutti.